...speccio, ci sono cinque dei specchi. Sì, guarda, guarda che il problema è di gioco. Simo, va fuori dall'acqua. Banana gambero rosso. Basura. Guarda qua che ti faccio. Pesce mediterraneo, i calamari li vieni. Vieni, vieni, vieni. Non è questo? Vieni, vieni, vieni. No, no, è un'altra cosa. Questa è bocciata dura. Ma che cazzo? Ma no, questa è da Youtube, eh? Ma ciò che fa? Ma che cazzo? Ma che cazzo? Ma no, questo è da Youtube, eh? Grazie a tutti